Ben trovati e venuto a trovarci nello studio del telegiornale il collega Enrico Trotta, amico di vecchia data e soprattutto presidente del comitato Enrico Trotta di Salerno. Ma chiediamo direttamente a lui questa iniziativa che ha attivato già da un bel po' di tempo. In che cosa consiste Enrico? Ti ringrazio innanzitutto e un grazie a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Il comitato di zona o anche meglio conosciuto come comitato di quartiere ma esattamente comitato di zona si occupa di tutelare l'ambiente e cercare di raccogliere le istanze dei nostri concittadini a Salerno rispetto alle cose che non vanno nei vari quartieri. Quindi strade dissestate, illuminazione carente, immondizia per la strada. Sono tutte cose che diventano molto importanti per una riqualificazione della vita nelle nostre povere città, soprattutto Salerno che è una piccola città del meridione e a volte abbandonata. Ecco, raccogli le istanze dei cittadini e poi l'iter come funziona? Proponi le mostri al comune, a chi di dovere? Certo, laddove è possibile un pizzico di autonomia interveniamo in prima persona con i nostri volontari anche del servizio civile, i quali dove possono operano, invece dove ci sono cose più importanti agiamo da ponte. Cioè, protocolliamo all'ente municipale, al comune, quelle che sono le carenze. C'è una strada a via Robertelli che non è asfaltata se si è rotto il tombino, eccetera, eccetera. E seguiamo poi l'iter procedurale affinché il comune poi possa correre ai ripari e aggiustare, in base alla nostra segnalazione, il danno. Bene, allora non ci resta altro che lanciare un messaggio ai nostri telespettatori per contattare il comitato Enrico Trotta. Come bisogna fare? Allora, molto semplici, innanzitutto abbiamo aperto anche un canale YouTube che risponde proprio al mio nome Enrico Trotta, quindi dove con un pizzico di ironia, un po' misto alla giornalista, ma Luciano De Crescenzo e Alessandro Siani, mettiamo in evidenza col sorriso quelle che sono le carenze del nostro territorio. Quindi su YouTube, sul canale YouTube Enrico Trotta. E poi il numero di telefono, che credo si veda anche nello spot, che voi amabilmente mandate in onda, che è 350 57 21 913.